Atollo, ideata e progettata nel 1977 da Dico Magistretti, è diventata negli anni l'archetipo della lampada tavola, vincendo il compasso d'oro nel 1979 e rivoluzionando completamente il modo di immaginare la classica bajour. Le forme geometriche che la compongono, il cilindro, il cono, la semisfera, la matita virtuale, hanno dato vita a un prodotto decorativo ed essenziale e allo stesso tempo slegato dal periodo storico delle mode e del momento. Ormai il prodotto è diventato a pieno titolo uno dell'icona del design italiano ed è disponibile in tre dimensioni differenti e in diverse finiture quale oro, bronzo, metallo e vetro. Grazie